ciao a tutti è un piacere essere qui con voi io sono qui con loretta dal vivo in presenza avete magari già visto altre sue testimonianze su youtube però io e loretta ci conosciamo già da un paio d'anni abbiamo fatto tanti lavori insieme da logo ceiling ai seminari di equilibrio energetico di connessioni angeliche lei ha finalmente deciso anche perché ce l'ha adesso abbiamo la possibilità di vivere le esperienze dal vivo di partecipare al seminario di quattro giorni dove i primi due giorni sono stati due seminari basati sul riequilibrio energetico e adesso invece stiamo vivendo l'esperienza del sé superiore ciao loretta ciao a tutti ciao come va bene bene come stai vivendo l'esperienza del seminario è bellissimo è una gioia un amore è bellissimo coinvolgente avvolgente e massimo tu avevi già fatto l'esperienza delle frequenze sia online che dal vivo che differenza stai trovando di fatto le energie sia online che dal vivo le senti ugualmente allo stesso modo anzi sono stupendo in tutti e due i modi dal vivo c'è il contatto umano che rafforza i rapporti rafforza l'energia la senti proprio umana oltre che solo energia e quindi è una cosa meravigliosa è una bella esperienza un po più profonda più profonda cosa vuoi dire a proposito delle nuove frequenze secondo te cosa sono queste nuove frequenze come le percepisci le nuove frequenze non lo so le percepisci nelle mani nel cuore le dirigi le le doni e ti fanno crescere anche dentro ti fanno sentire bene ti danno l'amore e dici lo sto danno anche alle altre persone se tu che beneficia hai ricevuto personalmente dalle nuove frequenze intanto ho staccato dal mondo il mio fisico si è rilassato si è si è adagiato sull'amore direi che è la cosa più più bella perché ho proprio staccato dalla mia routine che è pesante e sento proprio una grande leggerezza poi spero che arrivino altri più benefici del tempo e poi c'è la differenza con la connessione a sé superiore ti sembra più intenso ti sembra potenza è una cosa molto forte molto emozionale tu hai ricevuto la tua personale giusto? sì sì avevo il cuore che batteva mille ero il mondo ero bello è proprio piena 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 adesso che stai imparando tu a farlo sugli altri come ti piace questo lavoro è bello è come un regalo che fai a loro e che sai di averlo ricevuto e adesso lo puoi dare alle altre persone non vedo l'ora di andare a casa e sperimentare ma che piacerebbe fare questo come servizio per il maniare certo sì 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 beh loretta è una mia allieva ripeto da due anni ha una grandissima esperienza con lo e adesso è anche pronta per operare come insomma per aiutare a facilitare la guarigione comunque l'equilibrio energetico su delle altre persone e anche la connessione al sé superiore sì a chi consiglieresti questo segno? a tutti anche ai bambini anche ai bambini a tutti a tutti tutti dovrebbero crescere con la consapevolezza che ci sono energie d'amore e si possono donare agli altri si possono donare a se stessi esatto a tutti a tutti io se avessi un bambino piccolo me la sarei portato dietro avrei fatto fare il corso anche a lui o a lei che sia insomma a tutti a tutti e la presenza dell'arcangelo Michele? ci vuole lui ci accompagna ci protegge ci prende proprio per mano poi alleggia nella stanza si sente la sua presenza ti senti protetta in questo lavoro? mi sento proprio cioè non ho mai avuto dubbi che qualche cosa di sbagliato potesse succedere qualche cosa che di storto potrebbe succedere cioè mi sento proprio in una sfera proprio protetta si 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 l'arcangelo Michele ci ha accompagnato tutto dal cibo dal bagno dalla stanza dalle persone ci ha accompagnato in tutti i posti dove siamo andati che bello sono contenta io ti ringrazio per la tua testimonianza preziosissima grazie a te ti ringrazio immensamente un abbraccio ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti